Io credo che oggi si sia raggiunto un buon traguardo. Dopo che il MIBAC e la Regione Abruzzo hanno messo a sistema delle somme importanti per rilanciare l'aspetto socioculturale dei territori colpiti dal sisma, i sindaci, i comuni, i 23 comuni della Regione Abruzzo, quindi una porzione della nostra Regione, si sono seduti intorno a un tavolo e hanno programmato un'attività unica che avrà inizio già a Castelli il giorno 20 di maggio per finire entro il 20 di luglio. Un'attività importante ma soprattutto territori, pezzi di Abruzzo che si mettono insieme per ricostruire il tessuto socio-economico e culturale a seguito dei grandi eventi del sisma e soprattutto della sciagura dello scorso anno, la cosiddetta tempesta perfetta. È solo l'inizio perché adesso cominceremo a lavorare in maniera seria anche su quella parte importante che si chiama la ricostruzione.